Presidente, nonostante il suo addestramento, ieri ha assistito a un suicidio che poteva essere anche altro? Sì, purtroppo sì. Devo dire la verità, non me l'aspettavo. Era una persona che era già venuta diverse volte in poligono, da almeno due o tre anni. Normalmente arrivava sulla linea di tiro, sparava i suoi 50 colpi e se ne andava. Ci racconta cosa è successo, come è successo? Ieri io sono arrivato tardi in poligono perché avevo da fare con la società e quindi sono arrivato alle 6 in poligono. Eravamo io e il direttore di tiro. Mi sono messo sulla linea di tiro per esercitarmi un po' e dopo pochi minuti, verso le 6 e mezza, è arrivato questo signore. Il direttore gli ha chiesto se voleva sparare a 12 o 25 metri, ha detto che voleva sparare a 25 metri, quindi l'ha messo sulla linea 8, che è una delle ultime verso destra. E io gli ho chiesto se voleva che gli fossi di supporto per vedere dove sparava, mettendomi al binocolo la sua sinistra. Ho detto sì, sì, va bene. E ha iniziato a fare la normale esercitazione di tiro. Quindi ha sparato i primi colpi, sparava un po' basso, ovviamente l'ho corretto come è normale che si faccia con tutti gli utenti, anche con le appartenenti delle forze dell'ordine quando vengono a fare esercitazione. E quindi sostanzialmente è andata avanti la normale esercitazione di tiro. Poi siccome aveva sparato molti colpi, più o meno una quarantina, ha detto ora spostati un attimo dalla linea, che così sposto i bossoli perché insomma non è bene che tu ci cammini sopra. Si è spostato dalla linea, io ho il tempo di spostare i bossoli, ho sentito un colpo. Con la coda dell'occhio ho visto cadere il corpo. Se lei fosse stata ancora col binocolo? Sarei morto pure io, perché il proiettile, poi è venuta l'ambulanza, è venuta la polizia scientifica, il foro d'ingresso era a tempio a destra, il foro d'uscito era a tempio a sinistra e la palla si è conficcata esattamente sulla paratia dove stavo io col binocolo. E stanotte ha dormito? Non molto. Grazie a tutti.